Cari bambine, non so bene ancora cosa mi sono portata a casa da questo viaggio. Spero che gli incontri che ho fatto e le situazioni che ho vissuto mi aiutino a cambiare il mio modo di vedere le cose. E soprattutto spero tanto di riuscire a trasmettervi le mie emozioni e il mio desiderio di contribuire a migliorare il futuro dei bambini. Grazie a tutti.